Abbiamo una bella anteprima, un'interessante anteprima qui negli studi di Safe Drive questa sera. Prima di andare a scoprire insieme, ringrazio di essere qui con noi Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Motors Italia. Buonasera Giuseppe. Buonasera. Grazie di essere tornato. Giuseppe è uno dei volti storici ormai di questa trasmissione in qualità di ospite e ci hai portato, lo dicevo all'inizio all'introduzione di questa intervista, una novità assoluta che proprio questo weekend ci porta all'open day della nuova SEED. Io dico nuova perché in realtà si può definire come un restyling ma ci sono talmente tanti contenuti innovativi che può dare vita a una nuova generazione. Beh sì, infatti questo è il nostro intendimento perché è un restyling del nostro modello centrale, diciamo che è il segmento C con due differenti carrozzerie, la 5 porte convenzionali e la station wagon ed è un modello importante, diciamo alla sua seconda generazione ma qui ha un upgrade, ha un facelift importante nella seconda generazione. SEED è stata la prima automobile Kia pensata, progettata e costruita in Europa solamente per il mercato europeo. Venne presentata nel 2006 la prima generazione, viene realizzata una fabbrica in Slovacchia, Zilina, proprio per realizzare questo prodotto ed è lì che visto il livello qualitativo da subito raggiunto nella produzione che sono nati i sette anni di garanzia per Kia. È stato fatto qui qualcosa in più, quindi ci sono stati degli affidamenti da un punto di vista estetico sia all'interno che all'esterno ma dal punto di vista estetico la novità è che è stato aggiunto un trim più sportivo. Infatti diciamo nell'allestimento top si chiama ora GT, GT Line ed rappresenta un po' quello che è il DNA sportivo di questo prodotto che viene evidenziato dal design dei paraurti, dalla forma si chiamano Ice Cube LED che sono le luci anteriori antinebbia che danno un tocco ancora più sportivo. Gli interni sono caratterizzati da sedili sportivi, tutta una serie di accorgimenti che rendono ancora più evidente questo DNA che si vuole avere. Tra l'altro sotto il cofano una delle novità forse più interessanti è una nuova proposta di motori e un cambio automatico, noi l'abbiamo già provato in anteprima, devo dire molto molto interessante. Beh sono due novità importanti perché poi vedono nella SEED la prima applicazione ma saranno poi due contenuti che verranno poi estesi tutta la gamma. Parliamo del motore, la novità è un motore 1.3 cilindri turbo a benzina iniezione diretta questa è la prima novità tecnologica e la seconda è il cambio automatico nuovo a doppia frizione a sette marce che è disponibile qui con le motorizzazioni 136 cavalli turbodiesel o col benzina tre cilindri da 120 cavalli che da veramente esalta quella che è la piacevolezza di guida. Non c'è rischio di avere dei prodotti di qualità come ormai state offrendo però di non poter mantenere una certa fascia di prezzo perché poi è chiaro voi vi siete contraddistinti lo dicevamo prima per il discorso di sette anni di garanzia ma anche per un ottimo rapporto qualità prezzo. Beh allora è chiaro che i contenuti tecnologici tutti sono frutto di investimenti molto importanti quindi è chiaro che questo si riflette poi su quello che è il prezzo finale delle vetture però noi riteriamo in praticamente tutti i segmenti di essere competitivi e quindi rimane sempre un livello di competitività che è esaltato da quello che è di solito il contenuto che l'auto dà. Ci sono due carrozzerie e tre livelli di equipaggiamento quindi si parte dai 17.500 euro della versione 1.600 GDI benzina che è quella di ingresso per arrivare a 22.500 della versione GT sempre con la stessa motorizzazione. Poi gli step di prezzo sono 1.500 euro per la versione turbo GDI con 120 cavalli oppure per i turbo diesel 2.500 il primo step oppure 2.000 per la versione 136 cavalli con incluso però anche il cambio automatico sette marci. È chiaro che però siamo in una logica di mercato estremamente competitivo il segmento C è molto competitivo e quindi molto spesso i clienti al di là dei contenuti delle automobili guardano poi quelle che sono le offerte quindi noi abbiamo un'offerta di lancio per SID che prevede uno sconto di 2.000 euro a cui si possono aggiungere in caso di rottamazione o di permuta altri 1.500 euro. Oltre a SID che abbiamo il piacere qui di ospitare in studio c'è un'altra grande novità per la seconda parte dell'anno la quarta generazione di Sportage. Lo abbiamo visto a Francoforte. Come si sviluppa il modello in questa sua nuova connotazione? Beh, diciamo che non era un obiettivo facile quello di sostituire un prodotto che ha avuto un successo straordinario in tutto il mondo proprio perché ha espresso un design che era giusto per quello che deve essere un SUV quindi deve essere sportivo, deve essere moderno, deve essere comodo ma deve essere anche bello e credo che ancora oggi Sportage ha quasi 5 anni parliamo della generazione attuale è ancora estremamente gradevole quindi sostituire un prodotto di questo genere non è facile e non lo sarà però credo che sia stato fatto un grandissimo lavoro perché è stata mantenuta quella che era l'impostazione generale della vettura quindi si riconosce il fianco e quello dello Sportage chiaramente rivisitato in base a quelli che sono, diciamo, gli stilemi più moderni del design ma dove la grande novità è sul frontale totalmente rivisto ed è veramente, credo, la declinazione più bella del famoso Tiger Nose di cui parlavamo prima che è l'elemento trasversale su tutta la gamma è estremamente aggressivo, moderno ed è diverso dalle altre ultimissima battuta sempre allo stand di Francoforte per parlare di una gamma Kia che veramente oggi è molto ampia altra grande novità l'Optima molto interessante perché Optima? Optima è la seconda generazione la prima generazione noi decidemmo di non importarla in Italia anche perché coincideva al lancio con uno dei picchi negativi uno dei momenti più negativi del mercato italiano quindi ci concentriamo sullo Sportage arriverà arriverà nel corso del prossimo anno e devo dire che è interessante per quello che potrà offrire come gamma perché parliamo in una fase iniziale diciamo di quella che è la versione tradizionale quindi di un turbodiesel con delle caratteristiche direi da un punto di vista di design è estremamente interessante ma diciamo una vettura tradizionale poi però nel corso dell'anno sempre del 2016 parliamo dell'anno prossimo avremo due novità importanti una in termini di motorizzazione perché verrà aggiunta la versione plug-in hybrid e poi la versione station vego bene direi che abbiamo detto tutto e più di tutto grazie a Giuseppe Bitti per essere stato qui con noi grazie a voi lo ricordo amministratore delegato di Kia Italia noi proseguiamo pure con Safe Drive